Diciamo che oggi è iniziato di nuovo il processo per Federica e siamo veramente soddisfatti anche se ancora non abbiamo molti elementi oltre quelli che già si conoscono. Diciamo che abbiamo aggiunto un altro tassello a questa vicenda anche perché siamo abbastanza soddisfatti di come il PM ha risolto un po' di questioni burocratiche e anche difficili. Noi siamo molto soddisfatti e fiduciosi della giustizia per come stanno andando le cose, certo c'è ancora da lavorare, ancora parecchio. Diciamo che un pezzo alla volta stiamo andando verso la nostra direzione, che altro dire? Stiamo aspettando le risposte dei specialisti, dei professori per portare avanti questo processo e poi vedremo quando sapremo cose nuove. Sono il primo io a dirle adesso per il momento.